Che ci dici di questo gruppo rispetto agli altri? Siamo soltanto all'inizio, è inutile fare bilanci, sbilanciarsi troppo, è chiaro che otto vittorie sottopartite, imbattibilità nazionale, sono segnali significativi. Che ne pensi? Sì, sicuramente è un segnale importante che la squadra sta dando sia ai tifosi in primis che poi alle altre squadre che giocano il nostro girone. Si è creato un gruppo molto coeso, i ragazzi sono molto uniti e quello secondo me è il quid in più che poi si aggiunge ai valori tecnici e ai valori sportivi che vanno a mettere in campo sia i giocatori che l'allenatore. Quando crei il gruppo secondo me è una base fondamentale. Rispetto agli altri anni forse il clima di Goliardia, di stare bene insieme si è palesato subito? Sì, sono diventati subito amici, magari gli altri anni era una cosa che succedeva col passare del tempo, invece loro sono diventati prima amici che poi compagni di squadra. Ovvio che ancora siamo all'ottava partita, sicuramente abbiamo ottenuto un risultato importante, è inutile nasconderlo, è innegabile, però ancora c'è tanto da lavorare. Mimmo, se me l'ha scontato, passami il gioco di parole, non è così scontato essere a questi livelli, servono sacrifici, servono gli sponsor. Tu hai attraversato anche Mari Mossi nei campionati di Serie B nazionale, ricordiamoci che al piano di sopra c'è un campionato che ancora una volta sta proponendo le squadre del Sud, Orlandina e Ragusa con le squadre del Nord Italia direttamente, senza passare da Salerno o da Roma. Che ne pensi di questo momento? Allora, diciamo che sì, al piano di sopra, come dicevi tu, la trasferta più breve è Fidenza, quindi sia Ragusa che Capo d'Orlando sicuramente non stanno vivendo momenti facili dal punto di vista organizzativo e logistico. Noi abbiamo vissuto anche in questi momenti l'anno della retrocessione, quando con quella scelta accelerata che fece la federazione, ci mandò nel giro del nord-est, abbiamo fatto veramente tanta, ma tanta, ma tanta fatica. Oggi siamo in una situazione diversa, sia dal punto di vista economico, grazie ai partner che si sono avvicinati, noi non finiremo mai di ringraziare mai Energy, non finiremo mai di ringraziare Redel, che sono due realtà che ci hanno sostenuto, ci stanno sostenendo in questo progetto e sicuramente oggi siamo in una dimensione diversa. Ce ne corre, ancora ce ne vuole, siamo soltanto agli inizi, come ben tu sai, gli investimenti non bastano mai, nel senso che se si vuole ambire a progetti ambiziosi, bisogna anche riuscire a reperire investitori e persone che credono in questo progetto. Penso che noi come società, passami la presunzione, ma oggi siamo una realtà quasi consolidata, dopo cinque anni abbiamo dato dimostrazione soprattutto al presidente Laganà, che è il nostro traino, come ben tu sai, come tutti sanno, abbiamo dato dimostrazione che crediamo in un progetto, ci abbiamo messo la faccia, ci stiamo mettendo energie, risorse, forze, insomma un po' di tutto e quindi benvengano tutti gli investitori e tutte le persone che si vogliono avvicinare al nostro mondo. Con la scusa io invito pubblicamente il presidente Carmelo Laganà insieme alla signora Emilia, li voglio in tandem per raccontare un attimo. Penso che a questo punto sia inevitabile dare una cittadinanza onoraria a Roberto Bullara, che si dimostra per l'ennesima volta un signore con la S maiuscola, nonché un mito per tutti noi. Mimmo, trittico di partite, il gruppo chiaramente sta ricaricando le batterie, così come è giusto che sia. A tuo avviso, dove si può arrivare? Si può sognare? I cittadini chiaramente sono impazziti perché Reggio è una città che vive di onde, vive di entusiasmi. Giovanni mi fai una domanda strana nel senso, potrei risponderti istintivamente ma voglio essere molto razionale. Gli obiettivi dichiarati della società si sono pavessati in lo tempo, il nostro presidente ha già dichiarato a chiare lettere l'obiettivo fondamentale che ci siamo prefissi. Però ti dico sì, abbiamo un trittico importante adesso che ci aspetta a cominciare domenica col derby, poi c'è l'infrasettemanale a Catanzaro e poi arriva Matera. Ma la difficoltà oggi è mantenere l'equilibrio che si è creato, stare sempre con i piedi per terra, ma lì con il coach e con tutto lo staff sono abbastanza pronti ad intervenire, insomma a fare i ragazzi, ripeto, sono abbastanza sereni, sono molto coesi e quindi la difficoltà secondo me è proprio quella. I tre dello staff sono molto leopardiani, lavorano veramente schiena dritta, giorni e notti. Sì, esatto, pedalare. E questo è molto piacere, vuol dire che ci tengono tanto alla causa. Sì, sì, sì. Vedere coach Cadeo quando non c'è allenamento lì è un segnale, solitamente alle ore della prima squadra arriva soltanto quando si allena la prima squadra. Ma ti dico, io la prima telefonata che ricevo al mattino è quella di coach Cadeo, alle 7.20 tutte le mattine, il buongiorno. Quindi è uno staganovista, è uno che lavora molto, anche Stefano Scarpa è un coach abbastanza preciso, studia molto, segue molto le vicende. Poi per non venire meno a Sebi d'Agostino, prodotto di casa. Eccellenza di casa. Eccellenza di casa, sì, che effettivamente sta dando un supporto abbastanza importante. Tra le altre cose noi, come tutti sanno, permettimi di fare un piccolo passaggio sul settore giovanile che abbiamo implementato quest'anno. Mi rifaccio un attimo a Antonio che diceva che purtroppo i reggini hanno difficoltà a emergere nelle squadre primarie. Noi quest'anno abbiamo messo in piedi anche questo progetto dei giovani, puntiamo molto sui giovani. avremmo potuto portare i ragazzi da fuori, ne abbiamo portati soltanto due, ma abbiamo preferito incentrarci su quello che ci dà la nostra realtà, il nostro territorio. L'obiettivo fondamentale, uno degli obiettivi della nostra società è quello di far crescere questi ragazzi, di creare sempre i limiti del possibile. Una cantera è una scelta in questo momento storico molto, molto orgogliosa, visti i regolamenti, la legge sullo svincolo, che è un po' stravolto il mondo giovanile. Però si sta lavorando tantissimo. Antonio, tu sei uno delle eccellenze di sempre, il Storio Giovani della Viola. Qui, come ben sai, ogni tanto giochiamo e si potrà arrivare, secondo me, agli obiettivi. Mimmo, in bocca al lupo per il tuo cammino e per la tua pazienza. Grazie. Chi ti porteresti per vincere un 3 contro 3 di ex Nero Arancio? Ex non di questa stagione, se non li metterai in difficoltà. Ex, allora, ma ti devo dire qualcuno dei miei tempi. No, di quelli dei tuoi anni. Dei miei anni? Da dirigente. Dei tuoi anni da dirigente. Jan De Fall, poi, aspetta, fammi, se ti dico Ilia, Dittisnik sarebbe scontato, però no, a parte scherzi dei vecchi, Jan De Fall, Luca Sebrek, dei primi ragazzi, insomma, che ho avuto io. E poi, 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 non ti saprei dire, poi il terzo, forse Ilario Simonetti, insomma, dei recenti, ma in questo momento... Avrei detto Lazzarkekovic, non so perché, ma avrei detto Lazzarkekovic. Sì, sì, mi è sfuggito Lazzarkekovic, effettivamente, mi hai dato un buon suggerimento. Lazzarkekovic, ragazzo stupendo, ragazzo d'oro in tutti i sensi. E giocano insieme poi, quest'anno. Sì, quest'anno sono insieme con Viande. A Bruno Duranti, giocano 3. Eh, vabbè, ci poteva essere pure Bruno Duranti, paradossalmente. Sì, assolutamente. Antonio... Valici. Anche. Bello. In chiusura per i saluti.